Allora, prima di iniziare con il video di oggi, voglio dirvi che questo sabato 4 maggio mi trovate dalle 10 del mattino in piazza Gaia Aulenti al Lego Store per fare un po' di cose, visto che è lo Star Wars Day e ricorrono i 25 anni di Lego Star Wars per cui ci vediamo lì e vi spacco di abbracci come sempre per cui se vi interessa sapete dove quando venire ma ora a bandare cianci iniziamo subito con il video di oggi Sigla Allora, oggi voglio parlarvi di un film che è uscito la settimana scorsa e che in tantissimi mi avete chiesto di recensire vi chiedo scusa per il ritardo con cui arriva questo video ma è uscito il giorno prima di andare al Comic Con però avevo Stream Team quindi non sono riuscito ad andare a vederlo poi per l'appunto sono stato al Comic Con di Napoli fino a domenica sera e non sono riuscito ad andare a vederlo perché sono tornato troppo tardi e lunedì avevo il Cinema Cult con Dario Frusciante Marra quindi non sono riuscito ad andare a guardarlo sono andato martedì però ieri non vi ho potuto portare il video perché sono andato a vedere la WWE dal vivo a Bologna quindi eccoci qua l'unico giorno utile che avevo per realizzare questa recensione era proprio oggi e voglio parlarvi di un film del 2024 per la regia di Luca Guadagnino ed è Challengers una pellicola che aspettavo abbastanza nonostante non mi fosse piaciuto Bones and Doll il film precedente dello stesso regista però ero curioso perché comunque erano coinvolti i nomi interessanti tra cui Zendaya poi c'è anche Mike Faist e Joshua Connor che è un attore che sta lavorando parecchio soprattutto con registi italiani perché lui era in The Crown come Giovane Principe Carlo e lì lo hanno conosciuto un po' tutti poi è stato il protagonista del bellissimo La Chimera di Alice Rohrwacher che consiglio assolutamente di recuperare non appena sarà disponibile in versione on video perché per me è stato uno dei migliori film sono il migliore dello scorso anno purtroppo distribuito piuttosto male io stesso ho approfittato di quando sono andato a Bologna al Dams per tenere una lezione con il professor Paolo Noto per andare a guardarlo perché altrimenti nella mia zona era impossibile trovarlo c'era forse all'anteo a Milano ma a orari per me inaccessibili purtroppo quindi è una pellicola interessante dove lui è stato veramente bravissimo e qui torna con Luca Guadagnino che è un altro regista nostrano che ha saputo valorizzarlo e non poco un film che sembrava dai trailer essere incentrato su questo triangolo amoroso però mi avevano detto che in realtà il film poi sarebbe stato piuttosto diverso il triangolo sicuramente è centrale sì però è una pellicola che va un po' più a fondo del semplice rapporto a tre che poi tale non è in realtà è un film dove il tennis è un argomento importantissimo ma allo stesso tempo marginale nel senso che non è un film sul tennis ma il tennis ricopre un ruolo importantissimo nella vita dei tre protagonisti e non è semplice riuscire a fare una cosa del genere perché effettivamente un sacco di persone mi hanno detto ah io non lo vado a vedere perché è un film sul tennis no! è ovvio che il tennis sia importante centri con la storia ma non è un film sul tennis assolutamente e ve lo dice uno che ha sempre trovato il tennis una rottura di coglione infinita con questo non voglio dire che non sia uno sport straordinario capace di regalare grandissime emozioni è una cosa mia personale io quando guardo il tennis mi rompo il cazzo in maniera incredibile sono gusti quindi sono andato a vedere questo film sperando vivamente che fosse una cosa del genere cioè che non fosse un film su questo sport però Guadagnino è riuscito allo stesso tempo a renderlo un film sull'agonismo ma non solo su quello perché comunque alla fine è la storia di tre personaggi che sono indissolubilmente legati tra di loro dall'amore per gli altri due diciamo che si amano un po' tutti in un certo senso ma non solo da un punto di vista sentimentale assolutamente si parla di amore a 360 gradi si parla anche di amicizia che comunque è una forma di amore e hanno anche questo grande amore per la disciplina per questo sport incredibile dal loro punto di vista e alla fine è Guadagnino che fa Guadagnino cioè Guadagnino ha sempre e solo fatto film in cui parlava di amore in tutte le sue forme in ogni film affronta un modo diverso di amare affronta una diversa declinazione di questo sentimento perfino con Melissa P che è un film orribile che era un po' il suo esordio giusto per inserirsi nell'ambiente se vogliamo parla di quello parla dell'amore e del sesso poi se pensiamo a Io sono l'amore si parla di un amore in un certo senso anche infedele di una passione che brucia in Chiamami col tuo nome parla di amore tra due persone dello stesso sesso ma senza banalizzare questa tematica persino Suspiria è un film sull'amore e anche Bones and Doll per cui io sapevo già che cosa stavo andando a guardare sapevo che l'amore sarebbe stato al centro di tutto ma mi chiedevo questa volta come Luca Guadagnino avrebbe trattato la tematica e qui ha parlato dell'amicizia che si trasforma in amore e del fatto che molto spesso la passione tu non la puoi controllare e ha messo al centro di tutto tre personaggi di cui di fatto noi non sappiamo granché alla fine del film io mi sono interrogato su chi fossero questi tre personaggi e noi conosciamo di loro solo quello che riguarda questa, chiamiamola relazione questo rapporto perché non è la storia di un rapporto poliamoroso attenzione non è questo è una cosa un po' più viscerale e effettivamente di Tashi il personaggio di Zendaya noi non sappiamo nulla se non che era un prodigio del tennis e di quello che accade dopo però non sappiamo effettivamente per bene da dove viene qual è il suo passato stessa cosa si può dire dell'Art Donaldson di Mike Faist noi non sappiamo nulla di lui anche il Patrick di Joshua Connor è un personaggio che ha sicuramente una storia affascinante probabilmente c'è anche una storia di abuso di droga di alcol capiamo che ha un rapporto tormentato con la sua ricchissima famiglia ma al di là di questi piccoli accenni effettivamente noi conosciamo i tre personaggi solo ed esclusivamente in relazione al rapporto che hanno tra di loro e con il tennis ed è questo che io ho apprezzato molto di Challengers perché narrativamente parlando è un film che si sviluppa su tre piani temporali differenti uno nel passato uno nel diciamo presente e uno nel passato recentissimo sostanzialmente quindi è una cosa abbastanza particolare quella che ha fatto guadagnino e non sempre ci è riuscito soprattutto verso il finale il passaggio da un piano temporale all'altro è effettivamente un po' troppo rapido se ci pensate perché credo che lui volesse man mano che il film si volgeva al finale creare un parallelismo tra il ritmo narrativo e anche il ritmo della regia e quello di una partita di tennis giunta alle battute finali dove le cose si fanno frenetiche e quindi è un continuo ping pong anche se si parla di tennis tra queste linee temporali con questa regia sempre più frenetica fino ad arrivare ad una sequenza finale che mi ha tolto il fiato e che per me è clamorosa ho sentito tante persone lamentarsi oh è una regia poco chiara ma che regia è per me è una regia stratosferica quindi guadagnino ha tirato fuori credo almeno da quello che ho visto anche con le sue opere precedenti il suo miglior lavoro da un punto di vista tecnico io continuo a essere particolarmente innamorato di Suspiria per quanto riguarda la sua filmografia però trovo che Challenger sia il suo film più quadrato e maturo questi registi che riescono sempre a tirare l'attenzione ma nuovano che vanno avanti iniziano a dimostrare di voler raggiungere un certo livello di maturità registica è successo anche per dire a Tarantino io ho sempre considerato The Headful Eight il suo film migliore da un punto di vista di come ha gestito la narrazione di come ha gestito la regia i personaggi è proprio il film della maturità ecco per me Challengers è il film della maturità di Luca Guadagnino è quello in cui la sua poetica la sua voglia di raccontare l'amore raggiungono il punto più alto mentre invece non mi era piaciuto affatto come vi ho già accennato prima Bones and Doll che secondo me tirava troppo per le lunghe la storia sembra che finisca tre volte io quando lo vedi dici ma non finisce più sembra sempre volto verso la fine e poi ricomincia due palle non ce la facevo poi so che a molti Bones and Doll è piaciuto per Bones e Doll ma per me era un film abbastanza rotto sotto tanti punti di vista e questo continuo passaggio tra le varie linee temporali in alcuni momenti del film soprattutto verso la fine dove tutto diventa molto più veloce secondo me non funziona tantissimo ci sono i momenti in cui facevo fatica capire in quale linea temporale ci stavamo trovando e quindi secondo me è un esperimento riuscito fino a un certo punto da questo punto di vista ma poi abbiamo anche dei lati positivi secondo me eccezionali non è un film primo di difetti però porca miseria ad avercene vorrei farlo io un film del genere perché io ho notato che è stato un film estremamente divisivo c'è chi lo considera un capolavoro e per me capolavoro non è e di sicuro se anche dovesse diventarlo non lo possiamo sapere adesso come sapete io ormai ho raggiunto già da un po' di tempo questa convinzione per cui il capolavoro te lo definisce il tempo poi sì ci sono magari dei casi in cui vedi un film e dici cazzo questo è già un capolavoro a me capitò con un film come Mad Max quando vedi di sì questo potrebbe essere un bel capolavoro action ce lo dirà il tempo se ne parla ancora adesso e poi tra poco tra qualche settimana esce Furiosa è sempre di George Miller che è il prequel di Mad Max Fury Road quindi ale per cui quello direi che adesso lo possiamo definire un capolavoro Challenges di Guadagnino secondo me per essere definito capolavoro eventualmente ma io non credo che verrà mai definito come tale ci vorrà del tempo ma secondo me non siamo proprio in odore di capolavoro ma d'altronde non è che un film deve essere per forza o una merda un capolavoro può essere anche un gran bel film molto semplicemente per me questo è un ottimo film un film che comunque mi ha raccontato una storia che non mi ha mai annoiato è un film fatto di dialoghi di personaggi che si siedono e parlano di rapporti interpersonali raccontati con una regia secondo il mio modesto punto di vista eccezionale ma non solo per quella sequenza di cui parlavo prima ma anche proprio per il fatto che Guadagnino ha voluto giocare a volte anche su questi piani sequenza che seguono i personaggi che si preparano nella posizione quando vediamo i momenti della partita cerca sempre di tenere di tenere sempre la stessa guadratura muovendo la macchina da presa da una parte all'altra del campo è una regia molto secondo me emozionante e poi c'è anche un altro fattore che non si può assolutamente ignorare e che dà un tocco di eleganza al film che sono le musiche le musiche di Reznor e Rosso sono qualcosa di eccezionale e sono apparentemente totalmente sbagliate con questo sintetizzatore che non c'entra veramente un cazzo con quello che stai guardando io le dicevo ma belle perché sono bellissime ma perché poi mano mano che il film proseguiva mi sono reso conto che senza le musiche sarebbe sembrato tutto molto diverso perché quelle musiche apparentemente fuori luogo sono perfette soprattutto per come sono gestite perché sono dirompenti nel momento in cui i personaggi si concentrano poi quando iniziazione si fermano la musica sparisce cioè è esattamente il contrario di quello che ci si aspetterebbe da un qualunque film solitamente la musica siamo abituati che incalza nel momento di maggiorazione nel momento di maggiore tensione invece qui è contrario è una cosa quasi leoniana se vogliamo se 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 mi concedete un paragone che sembra non c'entra un cazzo ma che secondo me non è poi così tanto bislacco Leone manteneva i momenti prima dei famosi duelli nella sua trilogia del dollaro con questa musica che era sempre di Ennio Morricone che incalzava quando poi arrivava l'azione durava tutto pochi secondi pam 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 fine perché il duello stava nel prima non in quello che sarebbe accaduto dopo non nell'effettivo momento in cui ci sarebbe stata l'azione con i proiettili che avrebbero bucato le carni è un po' la stessa cosa solo che qui non c'è Morricone ci sono altri artisti non si parla di duelli con le pistole ma di tennis ma il concetto è molto simile questo ci fa capire quanto guadagnino sia un regista che sa effettivamente il fatto suo stiamo parlando dello stesso che amava alla follia uno dei film che lo hanno portato a fare il regista ovvero Suspiria è riuscito a ottenere la possibilità di realizzarne un remake e ha fatto un film che con Suspiria di fatto non c'entra un cazzo perché ha fatto il suo Suspiria quindi lui è uno che ha avuto tanti maestri diciamo inconsapevoli è uno che è cresciuto con tanti grandi artisti guardando i loro film e ha saputo interiorizzarli riprendendone alcune caratteristiche ma facendo le sue ora io non so se effettivamente il riferimento a Leone sia voluto ma io ci ho visto tanto del modo in cui Leone gestiva la musica nei momenti precedenti ai famosi duelli poi non voglio fare un paragone tra Guadagnino e Leone però io ci ho visto questo parallelismo ma magari sono pazzo io eh può anche essere però Challengers è un film dove peraltro i protagonisti non devono essere simpatici e io inizialmente vedendo come si comportavano ho pensato ma riesco a empatizzare con questi la risposta è assolutamente sì perché sono estremamente umani e alla fine il loro amore poi si riduce sempre all'amore per il tennis soprattutto il personaggio di Tashi il personaggio di Tashi ha a cuore praticamente solo il tennis io l'ho trovato un personaggio che fa delle cose che mi hanno veramente infastidito a un certo punto dicevo ma questa è veramente spietata è veramente senza cuore ma la sequenza finale ti chiarisce esattamente qual è il punto ti chiarisce esattamente qual è l'importanza del tennis e perché è accostato al loro amore è una cosa che è difficile da descrivervi senza fare spoiler infatti ve ne parlerò meglio nella parte successiva a questa dove parlo del film un po' più in generale però secondo il mio modesto punto di vista la questione del tennis legato all'amore è quella più centrale perché comunque Tashi ama i due personaggi in relazione alla loro bravura nel tennis a un certo punto c'è proprio un dialogo che fa capire che se una persona non gioca a tennis e non sa giocare bene a tennis a lei non interessa l'eccitamento sessuale l'amore il sentimento viene tutto sublimato dal tennis passa tutto da lì il suo vero e unico amore è il tennis gli altri due personaggi invece sono personaggi forse un po' più emotivi il personaggio di Art è completamente diverso rispetto al personaggio di Patrick i due sono all'esatto opposto ed è forse per questo che si vogliono così tanto bene il loro è un amore purissimo un amore che trascende l'idea di sessualità trascende completamente la fisicità è qualcosa di spirituale loro sono nati per stare insieme sono come se fossero una persona sola il problema è che poi purtroppo arriva purtroppo per loro Tashi a scombinare completamente quello che è il loro rapporto ma è un rapporto che si è mai fermato questo il film te lo vuole far capire anche perché tra l'altro tu per tutto il tempo cerchi di capire che cosa è successo tra loro lo puoi immaginare ma in realtà non è neanche una cosa così scontata e quindi io guardando il film continuavo a pensare caspita cioè alla fine è la storia del rapporto di queste persone capire come siamo arrivati alla situazione che ci presentano all'inizio però allo stesso tempo sembra quasi un thriller se vogliamo non dovrebbe sembrarlo però in realtà arrivi proprio alla fine che cerchi di capire tu cerchi di ricostruire questo mosaico di linee temporali sparso che il film piano piano inizia a rimettere insieme e quando arrivi alla fine pensi ah io sono rimasto molto soddisfatto da quello che ho guardato devo essere sincero l'ho trovato un film assolutamente interessante da un punto di vista narrativo bellissimo da un punto di vista registro e in generale estetico con questa fotografia che gioca tanto su colori luminosissimi che vanno però in contrasto con l'umore dei personaggi è un film in cui i personaggi amano e odiano e forse Guadagnino ci vuole dire che l'odio è una tappa obbligata per amare perché l'odio tira fuori dei sentimenti a volte l'odio ti può far capire quanto ami una persona so che sembro ossimorico so perché sembra assurdo però in realtà è così in realtà quante volte magari pensavate di odiare qualcuno e in realtà attraverso quello avete capito che il sentimento che provavate realmente era esattamente opposto non che sia sempre così però come ho detto prima Guadagnino vuole analizzare l'amore in tutte le sue forme qui ha voluto analizzare l'amore anche in relazione a un sentimento di odio in un certo senso è una cosa che Guadagnino ha capito cioè che i film d'amore possono essere i classici film le romcom stucchevoli ma possono essere anche film come i suoi ecco io in Guadagnino raramente ci trovo la stucchevolezza lui riesce e forse da suo grandissimo pregio è che spesso non sempre ma spesso riesce a non essere stucchevole nonostante i suoi film parlino sempre d'amore e in Challengers di stucchevole secondo me non c'è una mazza perché qua vediamo tanti momenti in cui i personaggi tirano fuori anche una certa cattiveria io stesso a un certo punto ero lì che dicevo basta questi mi stanno facendo impazzire porca puttana perché io a un certo punto li detestavo ma poi mi rendevo conto che non c'era bisogno di detestarli perché in fondo sono umani con i loro difetti con i loro pregi amano odiano alla fine siamo tutti sulla stessa barca alla fine tutti facciamo cazzate tutti per amore abbiamo fatto diverse stronzate io in passato ho fatto delle cose per amore o comunque per sentimento che se ci penso adesso mi viene da dire mamma mia ma che cazzone che sono stato perché l'amore può diventare anche ossessione l'amore può farti fare cose che non faresti mai da lucido è come una sorta di droga che ti possiede completamente e che ti impedisce molto spesso di avere una certa razionalità la stessa razionalità che avresti in un momento di lucidità quindi Guadagnino ha voluto analizzare questo aspetto dell'amore e lo fa con un film in cui il lato tecnico è eccezionale dalla regia alle musiche alla scrittura dei dialoghi poi ripeto qualcosa che si poteva migliorare c'è assolutamente però è uno dei pochi film che ho visto negli ultimi tempi di cui non mi viene da dire l'avrei fatto durare un pochino di meno secondo me dura il giusto un paio d'ore non ha una durata eccessiva è molto coinvolgente quindi alla fine lo guardi fino alla sua conclusione senza lamentarti in fondo è un film anche ben strutturato poi che il ritmo abbia dei problemi per come gestiscono le linee temporali è assolutamente vero sicuramente c'erano magari delle cose che io avrei approfondito narrativamente però lì è una cosa soggettiva perché se Guadagnino non ha voluto approfondire alcune cose riguardanti personaggi perché non era quella la sua intenzione quindi non lo posso considerare un difetto effettivamente sento tante persone lamentarsi dicendo che è una cacatella che la regia fa cacare ecco allora sul fatto che sia una cacatella io non sono d'accordo però è soggettivo alla fine quello è proprio il gusto no? un film è in un modo tu puoi vederlo come una cacatona puoi vederlo come un bel film sono anche cazzi tuoi cioè ho sentito gente dire ah io mi sono rotto il cazzo con Killers of the Friendly Moon quello è un diritto di chiunque non è che se è un film discorsese e è un bel film perché comunque è un bel film Killers of the Friendly Moon allora devi per forza apprezzarlo può anche non arrivarti ok? ci può stare però che si venga a dire che la regia del film è una cacatella ed è pessima ecco lì ci sto un po' di meno perché comunque bisogna anche avere un filino di occhio cioè tu devi anche sapere un minimo di quello di cui stai parlando se vedi quella regia e mi viene a dire che è una regia banale che è una cazzata io ti dico ecco no oggettivamente è una regia banale quella poi può piacerti come no e qui torniamo nella sfera del gusto personale e su quello io io accetto tranquillamente che uno mi dica la regia fa cacare la regia a me non è piaciuta non accetto scusate stavo confondendo non accetto che mi si dica fa cacare ecco cacare no perché comunque il cinema lo dico sempre è anche un linguaggio e ci sono delle regole e una buona regia è una buona regia punto può non piacerti certo ma rimane una buona regia mi dispiace se io se io riuscisse a replicare pedissequamente un quadro di Michelangelo a livello tecnico ma magari per qualche motivo quel quadro non dà la stessa spinta non dà la stessa sensazione che dà un quadro di Michelangelo tu puoi dire a me non piace ok ma se io ho fatto una cosa tecnicamente a livello di Michelangelo almeno nei tratti si dirà però la tecnica è buona è innegabile è lì da vedere quindi può non esservi piaciuto il film ci sta dire che la regia non è buona oppure se ti do dire le musiche sono orrende ecco no non potete venire a dire che quelle musiche sono orrende qui non siamo più nell'ambito cioè di che non ti piace ma non dir che è orrendo perché allora mi viene da dire che cazzo cos'hai ascoltato di che non ti piace che non ti piace l'effetto che hanno sul film legittimo ma che mi si venga a dire le musiche fan cagare la regia è orribile e allora lì mi viene da dire eh ho capito apriamo un libro in cinema e vediamo come si fa una regia perché il film può avere sicuramente dei difetti però ha una certa la buona regia è una buona regia appunto le chiacchiere stanno anche a zero ma mica perché lo dico io perché poi sembra che ah perché l'ha detto lui lui pensa che la sua opinione legge no semplicemente perché ragazzi le inquadrature quella non vi dico cosa ha fatto sul finale ma la roba che ha fatto sul finale è pazzesca cioè non è riuscito a farlo secondo me in maniera non pomposa non è uno di quei virtuosismi che mi fanno pensare Telki guarda questo qua vuole farci vedere che c'è il cazzo più grosso degli altri no no perché è perfettamente contestualizzato è sensato nel momento in cui lo fa perché la regia non è tutta così è una buona regia quella che vediamo nel film ma i muscoli li tira fuori nei momenti in cui ci sono le partite di tennis cioè quando giocano la regia cambia si trasforma perché Guadagnino voleva farti percepire l'amore che i personaggi provano nei confronti di questo sport quindi non è che lui abbia cercato di infarcire tutto di virtuosismi per tutto il tempo in cui ha girato il film no ha tirato fuori di virtuosismi non inutili assolutamente propedeutici a lanciare un certo tipo di messaggio a scatenare un certo tipo di emozione nei momenti in cui era necessario farlo secondo il suo punto di vista non è da tutti tanti registi molto spesso per far vedere quanto sono bravi ti virtuosizzano il film facendoti anche cascare i coglioni è capitato un sacco di volte Guadagnino questo non l'ha fatto ha fatto una cosa completamente diversa quindi ripeto non è piaciuto va benissimo però almeno riconosciamo un certo impegno registicamente secondo me è il suo film migliore anche se anche in Sospire aveva tirato fuori delle cose io continuo continuo a costare un po' Sospire cioè Sospire per me rimane rimane quello forse anche più originale in un certo senso ed è paradossale perché è un remake ma è talmente diverso rispetto all'originale ed è una sua rivisitazione totale di quella storia che diventa un film unico e a sé quindi io vi consiglio di andare a guardarlo non state ad ascoltare quelli che dicono che è brutto quelli che dicono che è fantastico meraviglioso il film migliore che vedrete andate a guardarlo pensando di star guardando un film di un regista che è arrivato a un punto della sua carriera dove può permettersi di fare alcune cose può permettersi di lavorare con attori e attrici di un certo calibro ormai è già da diversi film che può farlo secondo me rispetto a Bons and Doll qui ha trovato proprio la chiave di lettura giusta Bons and Doll l'ho trovato molto pretenzioso come film l'ho trovato molto sbagliato sotto tanti punti di vista tanti lo hanno apprezzato e ci sta va benissimo io non ci sono riuscito qua invece è riuscito a tirare fuori qualcosa di veramente veramente più interessante e sono contentissimo e adesso io aspetto molto più volentieri il suo prossimo film perché dopo Bons and Doll sapendo che non uscirà Challengers io ho pensato vabbè sì lo guardo andrò a vedere però io ho paura che abbia un po' perso la bussola guadagnino mi sbagliavo sono contentissimo nell'essere mi reso conto che mi sbagliavo non è che ogni film che un regista fa debba essere un filmone non penso che Bons and Doll fosse una merda penso che fosse un film che a me proprio non è riuscito ad arrivare problema mio non lo so però qualche difetto che era lì da vedere il film ce l'aveva non si può negare però comunque è un regista che sa sa comunque tirarmi fuori delle emozioni nel bene o nel male quando guardo un film di guadagnino difficilmente esco freddo magari esco incazzato come è stato per Bons and Doll oppure esco entusiasmato come è stato per Challengers per chiamarmi col tuo nome per altri film Suspiri a me era piaciuto anche Io sono l'amore Bigger Splash però Io sono l'amore Bigger Splash erano film comunque un po' sul mediocre rispetto a quelli che sarebbero arrivati dopo perché erano i primi perché doveva carburare è arrivato al suo ottavo film ha trovato una quadra e secondo me potrebbe regalarci delle grandi soddisfazioni addirittura sento gente di dire questo film arriverà gli Oscar gli daranno la regia un momento gli Oscar sono tra quasi un anno ora di quel periodo chissà quant'altra roba uscirà magari addirittura più meritevole stiamo un po' calmi vediamo cosa succederà però sono contento che un regista italiano che è partito da un filmaccio come Melissa P sia arrivato a fare un film come Challengers che siccome è un film che parla tanto allo spettatore che gli presenta personaggi con cui sembra impossibile empatizzare con cui alla fine tuo malgrado finisci con l'empatizzare e vorrei sottolineare quanto sono state ottime le interpretazioni tanto di Zendaya quanto di Mike Faist quanto ancora di Josh O'Connor che hanno una chimica straordinaria che era necessaria affinché il film funzionasse sono stati bravissimi alla fine Faist e O'Connor sono ancora un po' le prime armi se vogliamo quella più famosa era Zendaya che ormai è molto affermata però si vede che Guadagnino ha cercato di farle tirare fuori qualcosa che ancora non aveva tirato fuori io trovo che lei sia brava e l'aveva dimostrato anche in Euphoria ad esempio aveva un ruolo un po' più complesso rispetto ad altri in cui abbiamo vista ma se penso a Challengers credo che qui sia il prodotto in cui è stata diretta meglio si vede che il regista ha cercato di farle tirare fuori qualcosa che ancora non aveva tirato fuori ci sono almeno un paio di scene in cui l'aveva trovata bravissima e anche gli altri due sono stati bravi in particolar modo io credo che abbia spiccato Joshua Connor che secondo me è uno di quegli attori che tra qualche anno sarà una vera superstar perché nei ruoli che ha interpretato finora per me è stato eccezionale io vi rinnovo l'invito a guardarvi La Chimera della Roar Wacker lì è eccezionale perché poi tra l'altro è un film italiano quindi deve parlare un po' in italiano è dimagritissimo rispetto a qui perché il personaggio doveva essere molto magro in quanto era una condizione di salute un po' particolare insomma è un attore che ho visto principalmente in tre ruoli completamente diversi da loro e che ha saputo caratterizzare in maniera differente ma sempre ottima quindi assolutamente guardatevi La Chimera e anche Le Clown se l'avete ancora vista perché credo che meritino come prodotti e Challenger se l'avete ancora guardato andate a guardarlo tra l'altro sono stato molto contento di averlo visto in una sala piena dopo diversi giorni che il film era uscito sono contentissimo certo il giorno dopo era il primo maggio quindi c'erano tante persone chissà quanti chissà quanti che sono andati a vederlo pensando di trovarsi un film dove c'erano questi qua che trombavano in realtà non c'è praticamente quasi mai nulla di tutto questo non c'è mai niente di tutto questo non è un film che ti mostra le scene di sesso non è un film che vuole puntare su quello è un film che punta i sentimenti è un film che va oltre il semplice concetto di menage à trois perché poi non è neanche quello è un'altra cosa ancora è un film che parla di sentimenti senza essere stucchevole senza essere la classica rom-com delle mie palle è una cosa completamente diversa che io vi consiglio caldamente di andare a guardare detto questo vi abbraccio vi ringrazio grazie a tutti tanto, 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 tanto bene noi ci vediamo al prossimo momento che se il film avete ancora visto se invece l'avete visto per sapere in uno specifico gli spazi iniziano tra 3, 2, 1 allora io ho apprezzato il fatto che di base il film inizi facendoti capire che Zendaya e Hart sono sposati ma che c'è stato di mezzo a un certo punto anche Patrick e andando indietro nel tempo capiamo che Patrick Mike e il personaggio di McFist cioè Hart erano grandissimi amici come fratelli peraltro c'è sempre questa tensione omoerotica tra di loro a un certo punto quando stanno per fare sesso con Tashi lei si sposta loro continuano a baciarsi senza rendersi conto che lei è lì che li osserva però non sembrano dispiaciuti da questa cosa perché si vogliono talmente bene che il loro è un amore un'amicizia che va oltre il loro orientamento sessuale non c'entra l'essere bisessuali omosessuali è proprio una passione che li travolge però e quando gioco da tennis è assolutamente chiaro e Tashi dice una frase molto importante a un certo punto perché dice facciamo così io vado a letto quindi non fanno sesso non li vediamo fare sesso a tre e questa è la cosa che io l'ho apprezzata tanto che ho detto meno male che Guadagnino ha tolto completamente l'idea che questi facessero sesso a tre cosa che però nel trailer era un po' stata fatta credere per attirare le persone che è un po' ingannevole non mi fa impazzire come cosa io la preferisco però insomma il pubblico magari si aspettava qualcos'altro per me ha avuto qualcosa di effettivamente migliore rispetto a quello che avrebbe potuto essere un film banale con loro che trombano non sono Bertolucci con The Dreamers ok Bertolucci le può fare poteva fare una cosa del genere comunque sia lui poteva farlo senza che fosse una roba banale perché rappresentava comunque un rapporto tossico film incredibile quello quindi non sono tutti Bertolucci che possono fare un The Dreamers senza che sia un semplice film con tre che trombano ok quindi buona che non sia andata così e onestamente è bello il momento in cui lei dice facciamo così io adesso vado voi domani avete la finale facciamo che chi vince ha il mio numero e lo dico ma cosa dobbiamo fare ancora e dice dovete solo mostrarmi un bel po' di un buon cazzo di tennis lei vuole vedere una vera buona partita di tennis e quando alla fine i due nel presente si sfidano dopo anni che non si parlavano dopo che Art aveva capito che poco tempo che qualche anno prima Tashi si era rincontrata con Patrick avevano fatto sesso e dopo che Patrick gli fa capire perché a un certo punto prende la racchetta e fa questo segno che tanti anni prima aveva fatto il segno di metterla nel collo della racchetta alla pallina per fare capire che aveva fatto sesso con Tashi quando però lui stava con Tashi quando era lui uscire perché all'epoca battè Art ottenne il numero di Tashi e Art cercò di farli mollare in tutti i modi fino a che Tashi non si infortunò pesantemente dopo una litigata con Patrick che era l'unico ad averle tenuto un po' testa era l'unico che aveva detto senti ma tu a te non ti ne frega niente ma a te ne frega solo del tennis perché lei aveva detto una cosa del tipo se non vinci se perdi perché dovrei interessarmi a te lei voleva fare un po' da coach e a un certo punto lei dice senti tu devi capire che noi siamo pari io non sono né meglio né peggiorata quindi non far tanto la splendida in cui tu mi ami solo se vinco ma che cazzo vuol dire effettivamente è una roba assurda ma Tashi è così a Tashi piace il tennis cioè lei sceglie la persona a conquistare in base a come vive il tennis a quanto ama il tennis perché il tennis è il suo vero amore e quando lei ha l'infortunio si mette dopo un po' di tempo dopo qualche anno con Art perché lei si mette a fare la coach perché non può più giocare a livelli alti e quindi si sposano hanno una figlia eccetera però ogni tanto incontra ancora Patrick e se lo trova quindi lui fa nel presente il segno dicendo se l'hai trovata la notte prima perché lei ha chiesto a Patrick di perdere perché dice Art è depresso ha avuto un infortunio non vince più abbastanza e in camera loro avevano avuto questo discorso con le che fa se ti facciamo che se perdi ti lascio perché lei vuole essere fredda in passive ma in realtà ama Art e quindi chiede a Patrick ti prego non batterlo e allora Patrick non sa bene che cosa fare allora ha l'idea invece di batterlo e farlo vincere lo faccio diventare più forte ma io l'ho letta così fa capire che ha fatto sesso con Tashi la notte prima allora Art impazzisce e iniziano a giocare questa partita incredibile con Tashi che sembra quasi eccitarsi sessualmente e inizia a esultare a urlare come quando aveva urlato contro la tizia che aveva battuto Anna quando i due l'avevano conosciuta 13 anni prima perché dice io urlo quando sono esaltata perché il tennis è una relazione lo dicono non ho voluto dire una parte non spoiler ma il tennis è come una relazione ed è quello che ti racconta il film questa relazione basata sul tennis perché è il tennis a essere una relazione e quindi quando la regia diventa la soggettiva della pallina che è una roba per me clamorosa per come viene fatta all'improvviso con lei che esulta con Art che a un certo punto salta la rete e in realtà io ho guardato bene non è che si capisca bene chi vince ma non importa perché loro si abbracciano e sostanzialmente ti fanno capire che il loro rapporto d'amore d'amicizia tra loro tre non sarà mai dissolubile e non è una questione di amopoli amore un trio che si comporta come si comportano le coppie no è una cosa che va oltre è un amore viscerale che si intreccia con il tennis quella partita ha spazzato via 13 anni di dissapori 13 anni di odio perché questo amore a un certo punto è diventato odio per diventare poi ancora amore quando Tashi ha mandato via Patrick lo odiava quando lo rincontra ad Atlanta lei lo odia ancora vediamo lo stesso a fuoco negli occhi e quest'odio si tramuta in passione si tramuta in amore quando Tashi va da Patrick la sera prima della partita a dirgli fallo vince i due si incazzano urlano sembra quasi che si stia per menare finiscono a fare sesso perché quell'odio si tramuta in amore perché l'odio è l'altra faccia dell'amore questo vuole dirci guadagnino io l'ho trovato un concetto splendido a me è piaciuta tanto questa cosa l'ho trovata bellissima quindi Challengers è un film secondo me eccezionale sotto tanti punti di vista poi c'è quella scena bellissima con Art che palleggia il rallentatore e gli danno la penalità perché è troppo lento tra l'altro guadagnino scherza ironizza un po' sulle tante regole un po' solo del tennis ah punto penalità per per Turpiloquio penalità per hai sbattuto le racchette quindi usi proprio l'attrezzatura penalità per sei troppo lento penalità per sei antisportivo è tutto così ti fa capire che queste regole a un certo punto imbrigliano i giocatori i giocatori se ne se ne liberano si svestano a queste regole e iniziano a giocare questa partita dando dopo 13 anni a Tashi l'unica cosa che veramente lei avrebbe voluto la loro due del cazzo di buon tennis una partita di tennis incredibile che coinvolge tutto il pubblico addirittura si trasforma anche la regia quando vedi le racchette che colpiscono l'obiettivo della macchina alla prese lì è mostruoso e ci sono tanti altri momenti in cui le partite di tennis sono dirette in maniera eccezionale ma non siamo mai così vicini dentro al gioco come nella sequenza finale che secondo me è la migliore dell'intero film non parliamo delle musiche che io quando sentivo queste musiche totalmente al di fuori di quello che ci si aspetterebbe ma che pure erano così viscerali e che ti buttavano così dentro la narrazione io ho pensato madonna che cazzo di colonna sonora ho tirato fuori ok che non stiamo parlando degli ultimi dei stronzi comunque si parla di di Reznor di Atticus Loss quindi stiamo parlando di gente che sa fare il proprio mestiere però porca miseria gente che ha tirato fuori delle ottime colonne sonore però qua secondo me siamo ad un livello veramente oltre con questo sintetizzatore con questa musica elettronica che dici ma che cazzo c'entra col tennis però è perfetta perché è sempre nel momento in cui si concentrano poi vi smettono fanno per battere la musica è finita si interrompe perché non è quello che vuole sottolineare la musica vuole sottolineare prima che è il discorso del parallelismo su Sergio Leone che vi ho fatto poco fa dato questo io credo che non ci sia molto altro da dire su Challengers se non che è un film con dei personaggi interessantissimi bello vedere Patrick che dorme in macchina che non ha i soldi che è praticamente un giocatore di tennis decaduto ma è ancora bravo è perché lui ha buttato via la sua vita per via del suo carattere impulsivo non vuole i soldi dei genitori non si impegna abbastanza per giocare a tennis lui ad esempio fuma è uno sportivo un tennista che fuma non si fa problemi a fumare mentre gli altri due non fumano Art d'altro canto è troppo compassato non si lascia mai veramente andare anche quando amava Tashi cercava di far mollare l'amico cercava e poi alla fine lui si prende lui non riesce a farli mollare lui approfitta del litigio tra Patrick e Tashi piombando come un avvoltoio a consolarla quando lei si è infortunata mandandolo via ma in realtà se ci pensate se ci fate caso lui è molto meno passionale in grado di scuotere Tashi di quanto non lo sia effettivamente Art Tashi manipola di prepotenza il povero Art a un certo punto lui non ce la fa più a dover eseguire i suoi ordini a dover essere il bravo giocatore di tennis che lei vuole ha smesso di giocare con passione quello è il problema ed è anche un po' colpa di Tashi quindi un film che parla di rapporti che parla d'amore per me in maniera veramente ottima per cui questo è quello che pensavo circa Challengers in maniera un pochino più specifica io vi abbraccio vi ringrazio grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao a tutti grazie a tutti